Ciao da Francesco Nano, bentornata o bentornato su scuolasuono.it Oggi è una giornata particolare perché ci avventuriamo nel secondo episodio di quello che ormai sto definendo come il metodo scuolasuono di vivere con la propria musica. Ebbene sì, siamo arrivati al secondo episodio, la carne al fuoco è davvero tanta, spero che tu non ti offenda se io mi sono preso degli appunti perché altrimenti mi perdo delle cose importanti da dire. Allora, come vivere della propria musica e della propria arte? Come un musicista fa a vivere della propria arte? Questo è l'argomento di questo video. Prima di iniziare a parlare nello specifico, volevo fare alcuni avvisi importanti che mi sono segnato. Allora, primo avviso importante, ti prego di partecipare alle discussioni, se hai piacere di interagire, di dare il tuo contributo, di mettere un tuo commento qua sotto anche a seguito di questo video, lo puoi fare e anzi ben venga. Se vuoi supportare le iniziative di scuolasuono.it puoi condividere e far conoscere questi contenuti anche ai tuoi amici attraverso Facebook, attraverso email, eccetera, eccetera. Quindi piccolo spazio promozionale, autopromozionale. Secondo avviso importante, queste sono le ultime ore per accedere gratuitamente ai primi dieci giorni dell'Accademia del Mixaggio. Non lo dirò più, questo è l'ultimo messaggio che do in questo senso. C'è a disposizione un bellissimo tutorial realizzato dal mitico Gaetano Cirillo sul mixaggio della musica pop. Assolutamente da non perdere, che puoi scaricare gratuitamente accedendo ai primi dieci giorni dell'Accademia del Mixaggio. Terzo avviso importante prima di partire, stiamo per l'appunto avviando quello che sto definendo il sistema scuolasuono per vivere della propria musica. Ebbene sì, sveliamo un po' di cose. Effettivamente siamo al secondo episodio, cosa che non va ancora capendo che direzione stesse prendendo. Ebbene sta prendendo la direzione di un sistema, di un metodo brevettato dal sottoscritto. E per portare avanti questa avventura, per procedere in questa avventura, mi serve la tua collaborazione. Nella fattispecie sto cercando una band, un artista che, oppure una band, oppure un artista, che desideri collaborare con il sottoscritto, seguire i suoi consigli, metterli in pratica per trovare nuovo pubblico ed iniziare una nuova attività, diciamo, basata sulla propria musica per riuscire a vivere della propria arte. Sto cercando in particolare, come al solito non mi escono le parole, scusa, sono un po' incartato, ma anche perché le cose da dire sono tante e il tempo è poco. Sto cercando in particolare una band, un artista, che creda profondamente nella propria musica, nella propria arte, nelle proprie canzoni. Voglia vivere di musica, voglia vivere della propria musica, voglia mettersi in gioco e darsi da fare per arrivare a questo obiettivo e raggiungere questo risultato e abbia il piacere di utilizzare internet, webcam, social network e tutto ciò che c'è di social. È ovvio che una band ci sono più elementi, più componenti e ognuno di loro può dare un contributo. Un artista, magari un cantautore, è da solo, deve arrangiarsi a fare un po' più di cose da solo. L'importante è che se vuoi proporre la tua band per questo esperimento sul campo, l'importante è che ci sia una forte coesione, che abbiate dei buoni brani, che vi piacciono, che vi piaccia la musica che facciate. I generi possono essere, diciamo orientiamoci nell'ambito di quella che io definisco musica leggera, rock, pop, italiano, non italiano, quello che preferisci. Non andiamo su musica particolarmente elevata, generi particolari di jazz, di musica acustica, di folk strano, rimaniamo nell'ambito rock, pop, insomma, più o meno. Queste sono le credenziali dell'artista o della band che sto cercando per mettere in pratica le idee che ho io, personalmente, per mettere in pratica il metodo scura suono per vivere di musica e creare un caso studio. Penso che l'idea sia interessante e che potrebbe essere seguita anche con molto interesse anche da chi direttamente non partecipa, almeno per farsi un'idea di come le idee di Francesco Nano si possano applicare alla pratica per darci dei risultati concreti nel portare a casa la spesa con la propria arte, la propria musica. Quindi, il compito che ti do fin da ora è di scrivere qua sotto un commento indicando perché dovrei scegliere proprio te o proprio la tua band e quali sono le caratteristiche principali della vostra band, qual è il vostro genere. Magari mettimi un link al vostro MySpace o al vostro sito internet in maniera che io possa farmi un'idea e tra tutti i vari concorrenti scegliere quello che ritengo essere più opportuno. Metto dei paletti nel senso che sceglierò solamente l'artista o la band che reputo davvero più che interessante dal punto di vista musicale perché io in definitiva non è che sia un critico, non ne so, non sono un grande critico musicale, non è che posso dire questa è una cosa che va, questa è una cosa che va, non sono così inserito nel mercato discografico. La cosa che veramente mi interessa è la coesione nella band e la determinazione ad andare avanti, quindi devi riuscire a convincermi con questo tuo intervento che inserirai qua sotto che tu, la tua band oppure le tue canzoni se sei un cantautore sono proprio la situazione che sto cercando per sviluppare questo esperimento online. Se hai problemi tecnici con la registrazione per inserire i commenti oppure se hai qualsiasi problema tecnico puoi contattarmi all'email francesconano chiocciolascuolasuono.it oppure di recente mi hanno detto che alcune email tornano indietro non ho capito per quale motivo allora e mentre in questo solo in questo caso ti do un'altra email che è scuolasuono chiocciolagmail.com che utilizziamo proprio se non riesci a contattarmi. Bene, finiti gli avvisi importanti iniziamo entriamo nel vivo proprio di quello che è il secondo episodio di vivere con la tua musica nonché introduzione al sistema scuolasuono per vivere di musica. Facciamo un piccolo riepilogo dell'episodio 1 che cosa ci siamo detti nell'episodio 1 l'episodio 1 era un video registrato subito dopo il sondaggio che avevamo lanciato su scuolasuono il sondaggio chiedeva secondo te è ancora possibile in Italia vivere di musica a campare decentemente con la propria arte il 52% che ha risposto nelle prime ore da quando è stato lanciato il sondaggio ha deciso che ha espresso l'opinione che non era possibile più sbarcare il lunario in maniera decente come musicisti e da questo abbiamo tratto delle conclusioni tra cui il fatto che i musicisti sono molto demoralizzati in Italia oggi e abbiamo detto che è difficile iniziare a imbastire un'operazione che ci consenta di vivere della nostra musica se già partiamo demotivati e demoralizzati l'altra cosa che abbiamo detto l'altra cosa fondamentale è il fatto che secondo me si può trovare nuovo pubblico anche grazie alla rete anche se non solo diciamo che io negli anni in cui mi sono trovato a lavorare sul web ho conosciuto delle tecnologie delle opportunità che mi hanno fatto riflettere mi hanno fatto dire ma perché non mettere a disposizione dei musicisti questa conoscenza che ho acquisito e così ti ho presentato il progetto di questo esperimento di questo esperimento alchemico che faremo con la band che sceglierò in base ai commenti che mi lascerete infine ultimo concetto importante che abbiamo inserito nel primo episodio è stato il fatto che se dobbiamo campare di musica e quindi dobbiamo vendere la nostra musica la cosa fondamentale ed importante è il fatto di avere la materia prima cioè dobbiamo avere a disposizione del materiale musicale discografico ben realizzato ben registrato che suoni bene che siano delle belle canzoni da poter vendere perché altrimenti siamo già in competizione con la rete internet in cui è possibile scaricare qualsiasi file ci venga in mente nel giro di pochi minuti gratuitamente se noi dobbiamo proporre del materiale musicale a pagamento questo materiale deve essere realizzato in maniera veramente alquanto meno paragonabile alle produzioni discografiche planetarie e quindi da qui anche l'esortazione a partecipare all'accademia del mixaggio va bene partiamo a tutti gli effetti con quello che è il secondo episodio e che non è altro che diciamo l'introduzione di quello che vedremo nei prossimi video perché la materia è abbastanza è abbastanza particolare e particolareggiata diciamo che mi sono appuntato una serie di considerazioni indispensabili per partire con il progetto di vivere della propria musica su web senza i quali le cose risultano molto più difficili allora anzitutto qual è il nostro scopo il nostro scopo è utilizzare la nostra arte la nostra musica svegliarci la mattina e andare a registrare direttamente o fare le prove per un concerto per poter vivere per poter vivere dignitosamente questa è una cosa che si può fare e si può fare in diverse modalità si può fare sia con i musicisti che trovi a casa tua nel tuo paese negli ambienti che conosci in parrocchia nel tuo giro di amicizie ma oggi come oggi in teoria si può fare anche con musicisti che non risiedono nella tua città e che forse non sono nemmeno italiani oggi la rete ci mette a disposizione delle tecnologie che ci permettono di scambiarci file velocemente di collaborare di cooperare ebbene su queste due realtà entrambe queste realtà secondo me valgono la pena di essere un attimino analizzate ognuna di esse ha i suoi pro e i suoi contro in ogni caso in entrambi i casi secondo me se l'esperimento ci darà ragione te ne darò la prova è possibile vivere della propria musica e vendere la propria arte quindi parleremo di progetti denominati land o progetti fly a seconda land li definiamo quelli in casa realizzati in casa con i musicisti i nostri amici che vediamo di persona oppure fly quelli realizzati con altri artisti nella rete nel mondo a questo ne consegue che se anche sei un musicista solitario e magari hai delle belle canzoni perché non provare a seguire questo esperimento che faremo in diretta quindi ritornando allo scopo di tutto questo il fatto è di riuscire a vivere con la nostra musica per vivere e per pagare le bollette e fare la spesa è necessario avere delle risorse economiche quindi primo punto fondamentale queste risorse economiche con il metodo scuola suono si possono raggiungere vendendo la propria musica quindi bisogna vendere la propria arte bisogna trovare il modo di vendere la propria arte bisogna trovare qualcuno che sia contento di acquistarla e che sia ancora più contento di continuare ad acquistare le nuove produzioni le nuove canzoni che riusciamo a produrre con i nostri mezzi per fare questo primo concetto importante sarà necessario sviluppare quello che in gergo tecnico viene definito flusso di cassa ossia avere qualcosa da vendere trovare un nuovo pubblico disposto a acquistarlo questo nuovo pubblico può provenire dal mondo online quindi dalla rete oppure dal mondo offline quindi reperito sul territorio dovremo trovare il modo di far affezionare questo pubblico a noi alla nostra persona alla nostra personalità alla band ai componenti della nostra band quindi instaurare un rapporto un rapporto di amicizia con questa persona fino al punto che questa persona deciderà di acquistare e di sovvenzionare le nostre iniziative artistiche e infine dovremo diciamo con questo piccolo capitale che inizieremo a far girare avremo la possibilità di reinvestire nella nostra arte di reinvestire in attrezzature eventualmente di reinvestire in organizzazione di concerti in materiale promozionale pubblicitario la cosa interessante è riuscire a creare un meccanismo per cui ogni mese le nostre casse vengano riempite nuovamente grazie per l'appunto al nostro lavoro artistico la nostra composizione la nostra produzione altri aspetti che andremo ad analizzare durante questo questi nuovi episodi che sono in preparazione attualmente sono il discorso del team e il discorso delle facilities allora il team di lavoro secondo me quella che è la mia esperienza è una struttura umana fondamentale perché è difficile riuscire a fare tutto da sé cioè se un musicista è bravo a suonare scrive delle belle canzoni non è detto che sia altrettanto bravo ad esempio a cavarsela con la grafica cioè è necessario avere un grafico oppure non è detto che le sue scelte produttive musicali siano le scelte più azzeccate in quel momento quindi potrebbe essere utile appoggiarsi ad un produttore artistico elenco facciamo un piccolo elenco di quelle che sono le figure che io ho identificato potenzialmente far parte del team allora abbiamo il compositore colui che scrive i brani le canzoni la materia grezza su cui lavorare non è detto che per ogni figura ci debba essere una persona cioè ogni musicista può interpretare vari ruoli nello stesso momento questi ruoli sono il compositore lo scrittore di testi secondo me i testi sono molto importanti che siano in inglese che siano in italiano ci danno un appiglio emozionale su questo vorrei fare una piccola parentesi però la faccio dopo quando ho finito di elencare quelli che sono i vari ruoli quindi lo scrittore di testi i musicisti che collaborano nel progetto nei live e anche nelle produzioni in studio eventualmente il produttore artistico il fonico il grafico il videomaker colui che sa arrangiarsi con il video a creare piccole videoproduzioni non è detto che deve essere un dio del cinema ma insomma che sappia arrangiarsi questo sì gli sponsor anello fondamentale della catena il productive manager che in questo caso è Francesco Nano colui che ti darà le dritte per sviluppare il tuo progetto e quindi riuscire ad estendere a macchia d'olio quelli che sono i tuoi fans chissà se ce la farò sarà un lavoro di squadra comunque colui che ti dà le dritte per il productive manager lo definiamo colui che dà le dritte per seguire una certa direzione una certa strada ed infine il direttore tecnico cioè colui che ha la visione globale di tutto che ha magari anche a disposizione dei capitali potremmo dire dei piccoli capitali e che decide dove investire quando investire potrebbe essere la stessa la stessa persona che fa il produttore artistico potrebbe essere anche direttore tecnico o productive manager insomma queste sono un po' le figure che io personalmente ho identificato come fondamentali nell'organizzazione di una struttura musicale che funzioni di una struttura musicale autoprodotta che funzioni per il meglio ed infine accennavamo al discorso delle facilities quindi tutte le cose fisiche pratiche materiali che ci servono per realizzare il nostro sogno di vivere da musicista faccio un piccolo elenco poi eventualmente entreremo nel dettaglio in altri episodi la sala di ripresa per riprendere le proprie canzoni quindi serve un locale abbastanza silenzioso adatto a suonare una sala di mixaggio in cui mixare il materiale registrato potrebbe essere la stessa potrebbero essere due sale differenti ovviamente se si ha a disposizione uno studio di registrazione è meglio altrimenti io a suo tempo ho utilizzato la cucina di mia nonna per realizzare praticamente chitarra e voci di un disco professionale che suona anche molto bene quando semmai uscirà perché ci siamo incartati in delle fasi produttive diciamo così sala di ripresa sala di mixaggio studio di mastering quindi trovare una struttura a cui appoggiarci per fare il mastering delle nostre opere musicali in maniera che suonino veramente all'altezza della situazione e in maniera molto simile se vogliamo comunque confrontabile con quelle che sono le produzioni planetarie poi ci serviranno ci serviranno uno o più computer una videocamera una webcam comunque un cellulare insomma in maniera da riuscire a riprendere in buona qualità quelle che sono le nostre abitudini i nostri i nostri momenti di creatività insomma lo strumento che ci serve per allacciare la relazione con il nostro pubblico poi ci serviranno dei software per registrare audio registrare musica per registrare e elaborare video tutti i software che ci servono li troviamo sia in versione gratuita che in versione a pagamento ovviamente sono software diversi ma poi casomai scenderemo più nel dettaglio ed infine ci servirà per forza di cose un collegamento ad internet meglio se una linea DSL se no anche una buona chiavetta con una una buona velocità andrà più che bene però diciamo che gli strumenti sono questi gli strumenti musicali poi ovviamente i microfoni e le cose che ci servono a produrre la nostra arte beh detto questo ti saluto ti ringrazio per essere stato in mia compagnia ci sentiamo con il prossimo episodio del sistema nel scuola suono per vivere della propria musica ciao da Francesco Nano e alla prossima ciao 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 Grazie.